Sul riordino delle province Teramo Nostra non getta la spugna e continua la battaglia per salvare la provincia di Teramo, questa volta con quali iniziative? Sì, nel decreto che è stato approvato al Consiglio dei Ministri intanto è previsto che tutti gli uffici della nuova provincia, l'Aquila Teramo, dovranno essere soltanto nella città capoluogo, quindi Teramo perderà sicuramente gli uffici provinciali. Ma cosa ben più grave, si annuncia in questo decreto che tutti gli uffici territoriali dello Stato presenti nelle attuali città, quindi questure, prefetture, motorizzazione, saranno dimezzati. Quindi è facile prevedere che Teramo perderà tutti questi uffici che resteranno soltanto all'Aquila città capoluogo. Per questo motivo Teramo Nostra continua la sua battaglia perché nulla è ancora perso. Intanto il decreto legge per entrare in vigore dovrà essere convertito in legge in Parlamento, quindi da qui l'appello di Teramo Nostra ai nostri parlamentari teramani affinché con i loro colleghi delle altre 35 province cancellate dal governo Monti facciano battaglia per bloccare questo decreto. Teramo Nostra non si ferma qui, andrà a Roma a manifestare il giorno in cui questo decreto arriverà in Parlamento per tentare di bloccarlo in ogni modo e poi abbiamo chiesto anche al sindaco Brucchi di convocare al più presto di chiedere un incontro insieme con il presidente Catarra al ministro della pubblica amministrazione Padroni Griffi per spiegargli le ragioni per le quali Teramo capoluogo non può perdere tutti questi uffici altrimenti rischiamo che senza questi mille posti di lavoro veramente la nostra città rischia di scomparire. Per questo motivo Teramo Nostra rilancia un appello ai cittadini e tira le orecchie anche a quei tanti politici teramani che si sono sempre disinteressati di questa battaglia oppure sono intervenuti soltanto negli ultimi giorni perché si sono comportati tanti come schettino, ovvero non appena hanno visto l'ipotesi di cancellazione della provincia di Teramo si sono tuffati chi verso l'Aquila, chi verso Pescara, chi verso Ascoli abbandonando la nostra comunità teramana e mille posti di lavoro al loro destino.